Per garantire efficienza, economicità e partecipazione alla gestione delle attività di bonifica, si può riflettere sull'ipotesi di mantenere l'autonomia degli attuali consorsi e realizzare forme di condivisione degli strumenti operativi di gestione. Si terrebbero così insieme razionalizzazione, contenimento dei costi, maggiore efficienza, sussidiarietà e democrazia. È quanto sostiene il Presidente della Prima Commissione, Vincenzo Santochirico, che commenta la proposta dell'Aggiunta di istituire un unico consorzio di bonifica per tutto il territorio regionale, attualmente all'esame della Prima e della Terza Commissione. Quanto alle nuove funzioni che l'Aggiunta vorrebbe affidare a questi organismi, per Santochirico sarebbe utile prevedere che la Regione possa delegare o assegnare ai consorsi la predisposizione o l'esecuzione di progetti ed interventi, accompagnandole però con la necessaria dotazione finanziaria.